il condito riceve il pallone alza la testa e cerca il lancio in profondità verso Marco Voci che si appoggia per Stagliano ed è il gol del pirata il gol di destro di Andrea Stagliano che la mette dentro colpo di testa a favorire Stagliano che cerca di aprire in direzione di un compagno ma recupera con sicurezza certo ma ancora Stagliano controlla la palla apertura riuscì stop di dai suori ucci e riuscì mette la palla dentro al terzo minuto di gioco il ragazzo del 2000 il millennials che oggi aveva il compito di non far rimpiangere anche quel salvatore procopio tocco di surace per Rocco Papaleo sovrapposizione di Pirritano che gli porta via un avversario Papaleo ancora per Martinez tirotta spettacolo si defila esce Lombardo chiude e ancora un colpo di testa ed è il gol di Martinez che dopo la progressione di Tirotta è riuscito a rubare palla e di testa al dodicesimo minuto la mette dentro attenzione perché Martinez è partito in velocità evita un avversario con una finta si accentra mette in mezzo Tirotta la palla rimbalza tirotta Papaleo e in due minuti in due minuti al tredicesimo e al dodicesimo al tredicesimo la stilese pareggia una partita che sembrava già avviata in favore del Montepaone ecco ancora il tocco per Virgilio che ha difficoltà da arpionare la palla apre poi in velocità Perienco è partita la freccia di Montepaone eccolo che evita un avversario è circondato da altri avversari e non riesce a smistare la palla con Manno che rinvia in profondità forse sono un po' saltati gli schemi ma vediamo che Rocco Papaleo conquista una palla importante ha di fronte a sé Montirosso finta di andare in profondità bello il tocco la ribattuta ancora e Tirotta dopo un'ingenuità della difesa del Montepaone Tirotta la mette dentro perché gli è stata restituita la palla da Papaleo Rocco e quindi al diciottesimo Tirotta segna e in sei minuti la stilese ha ribaltato il passivo è passata dallo 0-2 al 3-2 a battere ci pensa Virgilio che mani sui fianchi calcia con delicatezza verso Conidi colpo di testa ed è il colpo di testa di Conidi che al trentatreesimo su pennellata di Virgilio con un calcio di punizione dalla tre quarti è salito all'attico anticipando Russo e mettendo la palla dentro Riucci ancora per Virgilio controllano a centro campo va in profondità Virgilio apre per Riucci che perde palla riparte la stilese con un 4 contro 3 capitanato da Tirotta che vede sulla sinistra Martinez si accentra Tirotta e poi cerca il tiro e la mette dentro magia di Tirotta imparabile per Lombardo e al 44esimo Tirotta trova il gol impossibile con un tiro di sinistro Montepaone 3 stilese Alfonso Tassone 4 una vittoria in trasferta importante noi abbiamo mister Vittorio Leotta possiamo dire che è stata una vittoria del gruppo con un grande tirotta? Sì vittoria di cuore vittoria di cuore sicuro perché prendi il 3 a 3 a 50 alla fine non so quale squadra riesce a reagire oppure anche dopo il 2 a 0 anche se ancora mancava molto abbiamo dimostrato di essere una squadra che ha orgoglio una squadra che seppur priva diciamo del tutto il centrocampo più Nesci che secondo me è un lusso per la categoria abbiamo dimostrato di dare fila da torcere al Montepaone che anche anche loro sembra che nel loro fila nel loro fila mancava qualcuno di importante quindi è stata una partita con due squadre un po' rimareggiate che comunque ci hanno messo ci hanno messo cuore hanno hanno lottato entrambi per vincere perché anche Montepaone secondo me sul 3 a 3 è rimasto alto per cercare di vincere forse ha pagato la nostra ultima incursione di tirotta che è stato bravo a spezzare la partita ma quando la stilese è arrivata qui a Montepaone con un punto solo era per travestirsi e dare l'idea di essere una piccola squadra invece uno squadrone la stilese ad oggi è un grosso gruppo non è uno squadrone perché eravamo privi davvero di giocatori importanti oggi però le posso assicurare che le prime due di campionato la classifica era più che bugiarda perché noi a Rosarno abbiamo fatto una grossa partita con la Bagnarese in casa la Bagnarese è venuta per prendersi lo 0 a 0 abbiamo sbagliato l'impossibile negli ultimi minuti per vincerla quindi la classifica era alquanto bugiarda e oggi mi ha fatto piacere che anche qualche ragazzo che giocava di meno è andato in campo dal primo minuto e ha dato l'anima per questi colori e per questa maglia. La dedichiamo ai tifosi che vi hanno seguito qui a Montepaone? Io oggi mi sento dedicato ai ragazzi perché si dovevano scrollare qualcosa dal gruppo che avevano già da un po' di tempo e quindi la dedico con tutto il cuore dei ragazzi. I tifosi sono splendidi che ci seguono ma oggi penso che la meritano tutti i 18 in campo. Mister Pisano, una partita veramente molto bella, forse tra le più belle viste qui al Frabotto Mannis che termina con una sconfitta. E' il mistero del calcio? No no, è stata una partita tirata, bella come hai detto tu giustamente quando ci sono tante tante situazioni e possibilità di fare gol, il pubblico si diverte, ci sono stati molti capovolgimenti di fronte, siamo stati poco furbi in alcune situazioni, secondo me lì abbiamo rimesso in gioco una gara che avevamo secondo me in pugno inizio secondo tempo dopo aver raddoppiato se andava avanti per 2-0. Però sinceramente ho visto come giustamente sottolinea lei una bellissima partita, mi dispiace aver perso perché comunque non era mai successo di aver perso in casa, almeno da quando erano il Montepone in campionato e quindi dobbiamo rimboccarci un attimo le maniche, però resta la prestazione. E questa è importante anche perché diciamo in tribuna stampa siamo in promozione, una promozione spettacolo, per quello visto oggi anche di un livello eccellente, però è sempre promozione e quindi non bisogna sbagliare niente, come fosse la Champions League. Sì, è così, è detto bene, poi oggi si giocava contro una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, quindi noi se siamo stati allo stesso livello, se siamo riusciti a portarla all'ultimo secondo in parità, se abbiamo combattuto pallone su pallone, se siamo riusciti a metterla sotto in alcune circostanze, ovviamente anche loro hanno fatto lo stesso con noi, credo che sia stata molto equilibrata come gara e direi che noi abbiamo dimostrato di poterla giocare con tutti, più che oggi il rammarico mio è per domenica scorsa, perché secondo me avremmo potuto tornare da Africa con un altro risultato, però ormai dobbiamo guardare avanti, dobbiamo capire perché oggi non siamo riusciti in alcune fasi del gioco a tenere la partita in mano, ma avevamo di fronte una grande squadra che punta a vincere, quindi ci può stare anche questo.